oh 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 oddio cosa buon day io sono barbuto devo dirlo io non lo sapevo ma non ho la barba non ho la barba e oggi siamo di nuovo qua con? con Beatrice io vorrei lanciare questo nuovo format sul canale dove Beatrice mi benda e mi picchia dove Beatrice mi benda e io acquisto online da vendato e ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano perché sennò come faccio e ovviamente io ti darò una mano Beatrice ma cosa c'è Beatrice io ti darò una mano a comprare le cose no? che piacciono a me ok come che piacciono a te no nel senso che piacciono a te quindi lei mi guiderà non so se in bene o in male e come primo episodio proveremo a vincere degli oggetti costosissimi come iPhone, Mac, tutte queste cose che costano tanto se nel prossimo episodio visto che ne faremo parecchi volete che Bea mi bendi volete che Bea mi picchi e mi bendi e che nel frattempo io cerchi di acquistare invece di cose costose dell'abbigliamento scrivetelo nei commenti ce l'abbiamo fatto ok non trovavo le parole allora bella stretta ci siamo? sì allora mi tocca un attimo la benda siamo su Drake Mall qui c'è la possibilità spiegare perché non lo sa c'è la possibilità di vincere tantissimi premi come hip hop cose di Halloween visto che appena passato Halloween iPhone tanti telefoni robe per pc insomma un sacco di cose costosissime tu praticamente hai un conto lo puoi ricaricare ovviamente non c'è bisogno di mettere tanti soldi per giocare tu giochi e se hai fortuna vinci dei premi se non hai fortuna non vinci cioè semplice però se sei fortunato a vincere comunque dei premi ma quel premio non ti piace puoi comunque venderlo qua tu fai vendi recuperi dei soldi e quindi puoi giocare ancora oppure puoi venderlo per acquistarne anche insomma capito ok ok quindi noi inizieremo aprendo dei pacchi e tu mi devi seguire nel senso io devo farlo per te? no io sono qua col mouse ah e tu mi devi dire vai via destra vai via sinistra ok quindi mi ribendo qui ci sono le varie i vari pacchi misteriosi questi sono i pacchi ok questi sono i pacchi misteriosi e in base a quello che vorresti farmi vincere puoi scegliere quale pacco in ogni pacco vedi ci sono quello che potresti trovare vai a sinistra a sinistra? sì ok dimmi quando cliccare ok vai 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 stop stop clicco? ah no un pochino più in su un pochino pochino stop clicca vai clicco vado vado eh vai 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 è già partito? eh ma non hai cliccato come no? è clicca sta andando sta andando sta andando sta andando sta andando sta andando? sì eh mi sono appena accorta che in realtà non gli ho fatto schiacciare niente ma come? eh cosa devo fare? eh non so dove ok quindi non abbiamo avvento niente no no un attimo vai su 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 no no un po' di meno un po' di meno a destra un pochino 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 giù di pochino 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 ancora ancora stop vai schiaccia clicco sì apriamola il pacco misterioso è partito? cioè adesso sta girando? sta girando? sì 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 no abbiamo vinto cosa? un passaporto un passaporto che cazzo stai dicendo? te lo giuro c'è un passaporto che costa un euro il porta passaporto eh sì lo vendiamo il porta porto vendiamo l'oggetto allora a me piace questo qua quindi fai una cosa vai tutto a sinistra ma stai bene? eh? tutto ok vai tutto a sinistra stavo cercando di sbirciare vai sinistra tutto a sinistra ok no vai a sinistra ok bene no torna a destra torna a destra ancora 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 ok schiaccio schiaccio eh vai clicca 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 ok poi apro la valigetta aspetta aspetta ok adesso vai sopra un pochino clicca clicco vai ma dopo sei preciso sta andando? sì 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 oh 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 ho mi ha vinto un telefono no ti giuro è l'iPhone X ma che ass! te lo sto dicendo te lo giuro C'è la cover dell'iPhone X Non è neanche l'iPhone X Eh la sto influenzando troppo Questo è l'iPhone 4 questo Che iPhone è? 50 centesimi Non abbiamo vinto nulla Quindi apriamo una cassa costosa Non da 11 dollari Vai 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 Scendi un pochino Ok vai scendi un pochino No 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 scendi ancora Ora schiaccio Clicco Questa è una cassa costosa Sì rispetto a la cassa costosa o no? Sì Oh dove clicco? Clicco? Mi rispondi? Mi rispondi? Allora sì adesso Mi fai un po' paura Ok vai a destra Ok clicca Clicco eh vai Ci siamo? Sì sì sta andando Ok Ok Cosa? 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 Oddio Non sai cosa abbiamo vinto? No non mi scherzare No non è uno scherzo Questo costa un po' Costa un po' Costa un po' Tu hai vinto? Cos'è cosa? Cosa potrebbe essere? Un iPhone? No un po' di meno Perché non sai che sei fortunato Un Airpods? Un Samsung Un Airpods È un Airpods solo una No sono quelle col filo Quelle col figlio? Sì Che cacata E dai Apro la valigia Dai ma non è valido Ti devi chiudere gli occhi No non guardare È partita No questo è bellissimo No questo costa tanto Ah già uscito? Sì questo costa tanto Allora No 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 non guardare Lo devi indovinare È della Apple È È per la TV Ma sì in realtà è una cacata È quella che ti fa venire alla Smart TV Sì Ma va fatto L'Apple TV Eh? L'Apple TV Questo 240 euro Vendiamo Ma no è bellissimo Vendiamo ti dico Apple TV 4k comunque Io non ho parole Ma sì ma noi vogliamo premi costosi Vogliamo i premi ambiti Vabbè fai apri la valigia Sali su No 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 Sali 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 No vieni un po' a sinistra 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 Partita? Sì no sta Sta girando Sta girando Un po' si gira vai ok sta girando Non guardare Non guardare Non guardare Mi sta calendo il naso Mi sta colando il naso No No Giusei mi sta colando il naso sulla sua mano Guarda Non sapevo che scherzavi Perché tu scherzi sempre Così vabbè apriamo L'ultima della Apple Se non manciamo niente Cambiamo Se vinciamo invece Ritiriamo Ricorda sempre Non ho mai schiacciato uno Lo vuoi schiacciare io Vai Posso vado? Vai Vai Oh Oh Oddio Cosa Porca 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 Puttana Ragazzi Perché l'ho schiacciato io Perché tu Parti sport ora Te lo dico Questo è l'app Questo è l'app iPad pro 11 1000 euro Lo vendiamo? No Io voglio il macbook Ma no non puoi venderlo C'è scusa È bellissimo Ok allora lo teniamo Che grande che grande Allora adesso prendiamo il pacchetto vip Prendiamo il pacchetto premium Ok quindi qua ci sono regali più Ci sono pacchi più belli Ok Allora prendiamo questo pacco vip che abbiamo pagato solo 9 euro 9 dollari visto che tante ne abbiamo vinti E abbiamo tutte queste funzionalità quindi sconto, nuove casse, le spedizioni più veloci e queste cose qui E proviamo la mystery battles Dato che abbiamo già vento l'ipad direi che posso anche se lo andiamo un attimo sbendato Mi è caduto il telefono vabbè tanto ne vinciamo un'altra Ah proviamo questo dove ci sono smart box vai join E guarda ci sono 13 partecipanti che se la stanno contendendo Sì Vediamo come funziona non so sinceramente come funziona Vai 92 dollari E cosa succede? Scendi scendi vediamo cosa succede Stanno uscendo vari oggetti penso chi prende più oggetti vince No praticamente tu vinci tutto quello che ti esce qua fuori Ah ok quindi abbiamo vinto per ora un mouse un orologio Create the same battle Ok abbiamo vinto 524 dollari Sì Sì Davvero Non ho capito questa mystery battle però va bene Abbia dovuta andarvi un attimo ma io voglio continuare a giocare da solo Quindi farò l'ultimo giro e attivo anche Attivo anche lo schermo nero visto che non l'ho Non l'ho fatto fino adesso ed è molto più figo E farò un ultimo giro con un iPhone box Proviamo a vincerlo Mi sono rimasti solo 7 dollari 45 Ma dopo venderemo tutto quello che ho Tutti gli oggetti che ho vinto E vediamo cosa possiamo acquistare Vediamo quanto vale il tutto Comunque vai Partiamo con l'ultimo giro Apriamo la valigia dell'iPhone box E vediamo Vediamo se senza Bea succede qualcosa Vai Apriamo la valigia Il pacco misterioso è partito Il pacco misterioso è partito Cos'è? Abbiamo vinto una cover per l'acqua del valore di un dollaro Quindi vendiamo l'oggetto Ora andrò a vendere tutto quello che ho vinto E vedremo quanti soldi riusciamo a raggruppare Spero abbastanza per prendermi il Mac Visto che non l'ho vinto Vendendo tutto quello che ho vinto Sono arrivato ad avere un saldo di 3200 dollari Quindi finché Bea non arriva Acquisto il Mac e le faccio una sorpresa dicendo che l'ho vinto Ok ci sono tutti i prodotti qui E io voglio prendere il MacBook Dove è il MacBook? Eccolo qua MacBook Pro 15 2018 Compra per 3100 dollari E lo acquistiamo Lo acquistiamo E a via dire che l'ho vinto Perché se no quella mi fa fare tutto bendato Qua non si prende niente Ho appena acquistato il mio MacBook Pro 15 2018 Ok qua clicco su consegna Metto tutti i miei dati E mi arriverà il MacBook a casa Appena mi arriverò vi farò vedere su Instagram una bella storia Quindi è andato Allora spero che questo video vi sia piaciuto Spero che l'idea del bendaggio vi piaccia Non mi ha picchiato tra l'altro Non mi ha picchiato Abbiamo vinto un MacBook Non l'ho sbagliato Non l'ho sbagliato Non lo sbagliato No scusa non volevo Ok e niente Quindi passate dal canale di Bea in descrizione Facciamo arrivare a 100.000 iscritti Però poi fermiamoci la No Ci sbagli un sacco Perché mi piace un sacco YouTube E' bellissimo E' divertente Poi incontri persone così Però vabbè No stupide Sia lì E niente Vi lascio il link in descrizione per Drake Mall E io vi mando un saluto Ciao Ciao